Ciao ragazzi, fa la galera, ciao ragazzi e oggi siamo in un'impossible race 23 world con switch world ragazzi, oggi siamo in una gara impossibile con una percentuale del 4% di valutazione e praticamente sono 23 world ride consecutivi 23 world ride consecutivi ragazzi siamo nella GTA con il contatto e ci prospetta qualcosa di estremamente euforico a parte di scherzi, qualcosa di malato proprio e qui è meglio che respawniamo mi invito già a lasciare un like se vi piacciono sti video sbagliato dicevo se potete lasciato un like che può solo aiutare ragazzi a far riconoscere un po' di più oh cazzo ragazzi, no, questo è impossibile qua ci vogliono minuti e minuti ragazzi si fa lunga e vabbè, se comunque poi facciamo queste cose praticamente dobbiamo cercare di rimanere sempre in basso i switch sono tutti così in basso quindi così e vabbè ragazzi, ne sono 23 in questa maniera credo che sia quasi impossibile poi da fare già in solitaria immaginate con gli altri che vi non fanno il cazzo ragazzi, è impossibile ragazzi, siamo già a due minuti e mezzo quasi ragazzi, sembra veramente guarda quali si succedono queste cose, ce le dico che cazzo corri a fare così come un dannato siamo qui quello già è riuscito, quello quasi c'è scritto che la T20 era la prima consigliata forse lo SIDI sarà meglio non lo so ragazzi, proviamo ad andare ok, siamo al quarto switch ragazzi magari se iniziamo così a andare ce la facciamo no ragazzi, non dovevo prendere il turbo non dovevo prendere il turbo forse magari passati quei primi ragazzi World Ride la cosa si fa più difficile i primi tre ecco tipo questo tipo questo ok ragazzi, ci siamo no, dovevo scendere di più dovevo appoggiarmi a World Ride ragazzi, ho capito il metodo io questa la prendo quasi come challenge ragazzi, perché è veramente difficile io vi ho chiesto di consigliarmi qualche challenge da fare e ne ho segnate alcune che sicuramente porterò sul canale quindi stay tuned ok ragazzi, ci siamo no porca Eva, dovevo mettere il turbo prima siamo a 5 minuti di gara si, aspetta che ho una maratona ah io voglio sfidare tutta YouTube Italia di canali di GTA e anche canali americani quindi voglio challenge tutta la community di GTA per completare questa rata questa rata questa rata e voglio lasciare il hashtag sarà alfixchallenge ragazzi alfixchallenge il hashtag sarà alfixchallenge ragazzi quindi raga mi raccomando provate questa gara se ne riuscite cioè mettete il titolo on alfixchallenge io sicuramente la vedrò vedo il video intanto siamo al settimo ottavo all right il ritmo sembra buono ragazzi il ritmo sembra buono continuo un'ora erano al decimo guardi super giù porca Eva dopo sette minuti circa quello era il massimo ragazzi che siamo riusciti a fare quindi super giù quasi la metà credo credo eh che è inutile andare troppo veloce vi do un consiglio andate più piano ok però qui si sbatte sempre ok raga crediamoci ci siamo no dovevo mettere prima il turbo ok ragazzi ci siamo siamo al credo decimo ride stiamo andando ok terzo ok ragazzi siamo al quinto no forse non devo andare noi devo mettere troppi turbo non mi dite quello ce l'ha fatto ce l'ha fatto no forse vuole cittare il check credo eh non so non so non ne sono sicuro se l'ha fatto veramente complimenti perché è veramente tosso sto warride raga ti giuro ok un po' di turbo ora non bisogna esagerare con il turbo tipo ora facciala no eh sì raga come pensavo stava cercando di cittare il check point ma credo non sia possibile in qualsiasi maniera raga ok siamo al quarto forse ho trovato il metodo diciamo però non voglio e infatti non dovevo parlare assolutamente non molliamo ragazzi non molliamo siamo a dieci minuti di gara siamo già a dieci minuti guarda il turbo turbo tattico anche qui turbo tattico ok ragazzi ci siamo si deve andare bene bene così ragazzi non non mi deludio che ti venti siamo secondo me più della metà ragazzi si si no no ragazzi per pochissimo questa volta veramente vicinissimi ci siamo ragazzi ci siamo bisogna rimanere concentrati lì e sfruttare il turbo a dovere 7 8 non mi deludere no ok ragazzi siamo siamo a 15 minuti e raga questo questo è raga purtroppo è veramente difficile guardate qui il massimo che ho fatto è stato fare circa quasi 15 warride ma più di quello raga non ci sono minimamente riuscite è veramente impossibile questa gara da pazzi vediamo ora qui siamo penso quasi al decimo warride raga un po' di turbo qui no perché 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 ok ragazzi siamo di nuovo quasi al decimo appena parlo trovo sempre un problema lì sul decimo warride ce l'avete fatto a caso pure voi bisogna sapere usare a tempo i turbo che se andate troppo veloci la macchina non flippa c'è uno switch se lo premete comunque siamo ancora di nuovo a metà ah guarda qui che sfortuna 17 minuti di gara porterà fortuna sto numero vediamo un po' no raga direi di no raga siamo a 20 minuti di gara e siamo ancora qui al stesso punto siamo sempre in 3 è una sfida ora di principio ragazzi veramente di principio perché devo riuscire a completare questo warride maledetto che poi dico io il creatore di questa gara se non mi sbaglio è un creatore di xbox sull'xbox one e ha comprato la playstation 4 e ha avuto la brillante idea di creare questa come sua prima gara e raga ma porca eva perché non si stava lì a creare sulla xbox one invece di crearmi perché non si stava lì sull'xbox one invece di crearmi problemi mentali sulla playstation 4 porca eva perché poi queste sfide a me piacciono a me piacciono eeeh FOTASI poi sono costretto proprio moralmente di principio a provarci perché è forte di me che bisogna provarci e devo completare perché se è possibile farlo lo posso fare eh però cerchiamo ad andare più lenti così siamo quasi ma c'è il problema tipo questo warride ma fattolo ma fattolo più stifoso cani più stifoso cani porco dio che che il monaco che che il monaco che va dalla porta e che cosa lo sanno sbaglio sempre allo stesso warride se a me c'è un problema proprio lì perché non è impossibile sempre a quei warride sbaglio vediamo se sbaglio sempre allo stesso warride c'è uno di questi eccolo qui raga c'è quello questo è diverso dagli altri ci avete fatto caso che forse mi starò flashando io ma mi sembra proprio che quella warride è un po' diverso cioè più avanti ci sono warride diversi più difficili ok ci siamo ragazzi questa me la sento buona guarda che appena parlo eh volevi vole guarda che faccia guarda che faccia ragazzi quasi 30 minuti di gara sto iniziando quasi a perdere i sensi come anche gli avversari vedete che buttano gli fuchi diciamo rossi qui eh esplodo pure io vai ragazzi 31 minuti di gioco e ne sto un po' risentendo sia fisicamente sia di testa poi guardate qui che succede 35 minuti ragazzi 35 minuti e ci stiamo provando vediamo un po' se ci riusciamo questa volta diamo un po' di turbo ragazzi questo è almeno no 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 guarda ne mancavano pochissimi ne mancavano ragazzi 39 minuti di gara cioè io sono veramente fuori di testa ragazzi lo so ragazzi sono distrutto siamo a 40 minuti di gara avete detto bene 40 ragazzi sono veramente distrutto non sono veramente euforico purtroppo tutto tranne che euforico vediamo un po' ragazzi se ci riusciamo tanto sbaglio sempre a sicurare qua la porta si apre così a caso vediamo se ce la facciamo ragazzi vediamo se ce la facciamo ci siamo quasi ragazzi ci siamo quasi e andiamo andiamo così dopo 41 minuti 41 fottuti minuti riusciamo a completare questo ride rafael meschita come in questo momento esce dalla gara ragazzi che sollievo io vi invito a fare questa cazzo di gara questa challenge sotto l'hashtag alfixchallenge ragazzi tutti ragazzi youtuber piccolini grandi quello che volete ora lo dito anche in inglese e in portoghese guys if you want to challenge me in this race to beat me in this time please leave the hashtag alfixchallenge and send me your video with your time galera se você quer desafiar eu mesmo escrevano titolo deo video un hashtag alfixchallenge e manda pra mimmo video co seu tempo e se vorrai do carai vorrai do cappetta ragazzi andiamo a chiudere questa gara dopo 42 incredibili minuti e andiamo così voglio almeno 1500 like per questo video ci vediamo al prossimo video falò sto scendendo sto scendendo sto scendendo fammi scendere no non ci credo non ci credo il personaggio è rimasto sopra no no forse la strada è lì